Assunzioni all'ASP di Enna, indagine su un volantino. Sequestrati 10 immobili e 2 conti correnti nell'Agrigentino. Piscina comunale di via Rochester, sabato manifestazione per la data della riapertura. Affitti Caltanissetta e la città meno cara d'Italia. Ben trovati con il nostro telegiornale, apriamo con la cronaca. Assunzioni all'ASP di Enna di persone ritenute vicine a un candidato nelle ultime elezioni. Indagine su un volantino anonimo. Il servizio. La procura ennese ha aperto un'indagine su una serie di assunzioni all'ASP di Enna ritenute sospette e collegate in qualche modo alle elezioni regionali dello scorso 25 settembre. Lo spunto nasce da un volantino anonimo che è stato diffuso nel periodo immediatamente precedente alle elezioni, nel quale era stata segnalata l'esistenza di un sistema cliente rare, tramite il quale sarebbero state effettuate assunzioni, favorendo persone vicine e parenti di un candidato alle elezioni regionali. Sarebbero una ventina le persone assunte, secondo quanto sostenuto da chi ha fatto circolare il volantino. Persone che sono indicate in un elenco che, oltre ai nomi e ai cognomi, contiene anche il grado di parentela. Tutti assunti all'ASP e all'ospedale Umberto I di Enna. Tra l'altro non è nemmeno la prima inchiesta della Procura sulle assunzioni dell'ASP e Enna, se ritenute sospette. In passato erano arrivate altre segnalazioni sulla scrivania del procuratore capo Massimo Palmeri e dei suoi sostituti, tanto che sono stati aperti altri fascicoli d'inchiesta. Il servizio di cronaca Grave incidente stradale, oggi nel pomeriggio sul viadotto Capodarso, sulla strada statale 626 in territorio di Pietra Persia. Un grosso camion, a quanto pare, avrebbe imbattato con due auto ed è volato dal viadotto finendo sulle sponde del fiume Salso. Sul posto diverse ambulanze, i vigili del fuoco, l'elisoccorso e la polizia stradale per accertare l'esatta dinamica del grave incidente. Per l'autista del camion non c'è stato nulla da fare. I feriti, tra cui una donna, sono stati trasportati al Sandelia di Caltanissetta in gravi condizioni. La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato 750.000 euro di patrimoni a un'imprenditrice agrigentina. I particolari? Dieci immobili e due conti correnti bancari per un valore di circa 750.000 euro sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione Investigativa Antimafia. Destinataria del provvedimento, l'imprenditrice quarantenne di agrigento Maria Barba, detta Giussi, titolare di un'attività nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili all'interno della cooperativa Suami, al centro attualmente di un'inchiesta per appropriazione in debita e riciclaggio. Secondo quanto emerso dall'indagine degli investigatori della DIA, il punto centrale della vicenda riguarda il riempiego di denaro proveniente dall'attività illegita scaturita dalla gestione di una onlus. Magistrati e investigatori hanno analizzato dettagliatamente il materiale contabile dell'attività di Giussi Barba, passando a setaccio i rapporti finanziari e riscontrando numerose irregolarità, sempre secondo l'accusa. La donna è la moglie di Salvatore Lupo, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, assassinato il 15 agosto del 2021 dal padre dell'indagata, Giuseppe Barba, poi arrestato e attualmente sotto processo per il delitto. Delitto che, secondo l'accusa, è connesso ai contrasti economici relativi alla separazione tra Giussi Barba e appunto il defunto marito. Quest'ultima era anche stata rinviata a giudizio insieme all'ex marito per l'accusa di estorsione ai dipendenti della cooperativa. Piscina Comunale di Via Rochester, sabato manifestazione per conoscere la data della riapertura Si terrà sabato 8 ottobre, dalle 17 alle 20, una manifestazione pacifica davanti alla piscina comunale, promossa da Armando Turturici, per chiedere come mai i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati e se ci sarà una data per la riapertura della piscina. Da maggio, davanti alla piscina, campeggia la scritta Presto riapriremo la piscina, con tante attività acquatiche non solo, e anche la vostra attesa sarà premiata. Quello che si chiede il promotore della manifestazione e anche i cittadini nisseni che hanno non pochi problemi logistici per usufruire di altre piscine e avere delle certezze da parte della società che ha in mano i lavori di ristrutturazione e delle date certe di consegna dei lavori e riapertura della piscina. Una manifestazione pacifica per richiedere notizie e possibilmente una riapertura di questa piscina che è chiusa ormai dal giugno 2019, quindi sono tre anni. Sostanzialmente la piscina è un bene pubblico di cui tantissime persone hanno veramente bisogno ed è giusto che in città ci sia questa struttura, che fa bene anche all'economia. Noi speriamo che con questa manifestazione possiamo venire ascoltati e invito tutti a partecipare. Lutto nel commercio nisseno è morto Claudio Cannarozzo, titolare di diversi negozi di abbigliamento della città. Lutto nel commercio nisseno è morto Claudio Cannarozzo, a capo di diversi negozi del centro storico e in periferia. Da tempo era alle prese con una malattia, che comunque non era riuscita a tenerlo lontano dalla passione più grande, i suoi negozi, che aveva tirato su da giovanissimo. Una passione condivisa con la moglie Ivana, i figli Christian e Daniel, la nuora Morena. Da pochi giorni Claudio Cannarozzo era diventato anche nonno, la notizia dell'arrivo della nipotina gli aveva strappato un sorriso, nonostante le gravi condizioni di salute. Fino alla fine Claudio Cannarozzo ha lottato con forza contro un triste destino che l'ha strappato ai suoi affetti più cari all'età di 51 anni. Di lui collaboratori, dipendenti, colleghi e amici conservano il ricordo di un commerciante vecchia maniera, come scrivono in una nota giunta in redazione. Di quelli sempre pronti ad affrontare ogni genere di avversità, di quelli che fanno poche chiacchiere e cercano sempre il modo di risolvere i problemi, concretamente. Claudio Cannarozzo era questo e molto di più. Di lui hanno un ricordo indelebile anche gli appassionati delle processioni della Settimana Santa tra Vare e Varicede. Claudio c'era sempre, anche qui in prima linea e non dal spettatore. Oggi si respira aria di profonda tristezza lungo Viale Conte Testa Secca, il suo quartier generale, con i suoi negozi chiusi per lutto. I funerali domani, mercoledì 5 alle ore 16 in Cattedrale. Affitti, Caltanissetta è la città meno cara d'Italia. Vediamo i particolari. Caltanissetta è la città in cui gli affitti sono i più bassi d'Italia. Il dato rilevato vede infatti il capoluogo siciliano, con il costo medio di 218 euro mensili per il canone d'affitto di un appartamento di 110 metri quadrati contro i 600 euro di Catania e 450 euro di Palermo. Varcato lo stretto, gli affitti più salati sono quelli di Roma, 1.450 euro, seguita da Milano con 1.300 euro e Bologna con poco più di 900 euro. A chiedere attenzione sul tema è Ivana Veronese, segretaria confederale UIL, l'Unione Italiana del Lavoro, che si rivolge al nuovo governo per soluzioni celeri, su rincari ed emergenza abitativa. Il fatto, oltre gli aumenti di luce e gas, è il costo. Di fatto, oltre gli aumenti di luce e gas, è anche il costo dell'affitto a lievitare di un 8,1% in più. Secondo l'ultimo indice FOI, prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato dall'Istat, si prevede un aumento già di fatto riscontrato dallo scorso agosto. Così un affitto medio di 538 euro mensili si prospetta su quello un aumento di 32,70 euro al mese e si traducono in 392 euro all'anno in più. E se in Italia il canone d'affitto è di 538 euro mensili, saranno 6.450 gli euro annui, vale a dire un costo di incidenza per un 19,9% sul portafoglio delle famiglie. Per questo motivo la sigla chiede al nuovo governo di rimettere al centro del dibattito politico il tema della casa, di affrontare con rapidità sia l'emergenza a sfratti e di valutare l'introduzione di risorse sufficienti per un piano di medio-lungo periodo in grado di incrementare in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole. Puliamo il mondo a Caltanissetta, iniziativa dei giovani di Lega Ambiente Si è conclusa positivamente, puliamo il mondo, che a Caltanissetta è coinvolto enti, dunque comune, libero consorzio ad esempio, Anas, Dasti, ma anche tanti giovani come gli scout e gli studenti. Il 30 settembre, venerdì, i bambini hanno riempito Piazza Garibaldi partecipando ai laboratori realizzati all'interno di una delle aree allestite in occasione della manifestazione carovana dell'economia circolare, iniziativa di Lega Ambiente che ha coinvolto diverse città siciliane e dunque anche Caltanissetta. Nel pomeriggio invece i ragazzi e ragazze delle scuole superiori hanno ripulito alcune zone cittadine aderendo alla campagna nazionale Puliamo il mondo. Hanno tolto rifiuti in alcune aree come Viale Regina Margherita o Piazza Papa Giovanni XXIII. Domenica invece 2 ottobre l'attenzione si è spostata verso la strada provinciale 2 e alcune aree di sosta della strada statale 640. Si tratta di pulizie straordinarie per certi versi simboliche che mirano comunque ad un obiettivo strutturale riuscire a mettere attorno ad un tavolo prefettizio e diversi attori competenti si legge in un lungo posto di Lega Ambiente Caltanissetta. Un auspicio che pare possa concretizzarsi a breve così come aveva raccontato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa il presidente dell'associazione ambientalista nissena e vocigna. Si pensa infatti ad una sinergia tra gli enti per far sì che le strade rimangano prive di rifiuti e guardando al futuro anche ad un protocollo di intesa. Si pensa infatti ad una sinergia tra gli enti per far sì che le strade rimangano prive di rifiuti e guardando al futuro anche ad un protocollo di intesa. Settimana nazionale della dislessia il convegno organizzato a Caltanissetta Ieri pomeriggio nella cornice di Palazzo Mungada si è tenuto il convegno dell'associazione dislessia di Caltanissetta in congomitanza con la settima settimana nazionale della dislessia che viene svolto regolarmente ogni anno in campo nazionale diviso in 60 sezioni provinciali dell'associazione Quest'anno l'associazione dislessia Caltanissetta guidata dal dottore Marco Leonardi ha organizzato due convegni sull'argomento uno andato in scena ieri e l'altro oggi a Gela al Teatro Eschilo Nei convegni si discuterà sulle linee guida da intraprendere e sul metodo di inclusione dove a parlarne saranno professionisti come psicologi e psicoterapeuti L'impegno dell'associazione è sensibilizzare il mondo professionale scolastico e la pubblica opinione sul problema della dislessia promuovere la ricerca e la formazione nei diversi ambiti di intervento e offrire agli utenti un punto di riferimento qualificato per ottenere informazioni e aiuto per identificare il problema Questo convegno ha in occasione della settima settimana un'azione della dislessia che si svolge annualmente praticamente in tutto il territorio in 60 sezioni provinciali dell'associazione su scala nazionale sotto questo punto di vista quest'anno noi abbiamo organizzato ben due convegni uno a Caltanissetta, al Palazzo Moncada che sta per iniziare e l'altro al Teatro Eschilo di Gela è stato un bel tour de force ci sono degli ospiti d'eccellenza si parlerà di linee guida, inclusione e tutti gli aspetti che ne derivano e tra gli ospiti abbiamo il professore Serafino Buono il professore Cornoldi che si collegherà online il dottore Francesco Di Blasi e il sottoscritto che parlerà di 10 anni di attività di screening moderati dalla dottoressa Chianese è una settimana dedicata ai disturbi specifici dell'apprendimento alla dislessia, ovvero a quei disturbi a quelle neurodiversità per le quali alcuni bambini, alcuni alunni fanno fatica ad automatizzare i processi di lettura, scrittura e calcolo queste condizioni sono sostenute da aspetti neurobiologici quindi non sono bambini che non hanno voglia di studiare non sono demotivate allo studio questi aspetti arrivano dopo alla base c'è un disturbo che non gli consente l'automatizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo fare queste giornate è molto importante per sensibilizzare sia gli insegnanti curricolari sia tutto il corpo ingegnante Manifestazione U Cristo trovato la presentazione domenica 16 ottobre al Teatro Rosso di San II Tra costumi, telecamere e copioni gli attori e le diverse comparse insieme a tutto lo staff ad agosto sfidando le altissime temperature di quest'estate hanno attraversato il quartiere Angeli la chiesa di San Domenico la zona del cimitero e anche piazza Garibaldi per girare le scene dell'ultimo film di Tony Diangitano un lavoro che tra recitazioni e attimi di vita vera tratti dalla settimana Santa Nissena è già pronto per essere visto dal pubblico la serie di ritrovamento del Cristo Nero infatti verrà presentato prima a Palermo e poi a Caltanissetta Finalmente siamo pronti il lavoro è già definito fra l'altro è una nuova tecnica che sto portando avanti perché non avevo calcolato all'inizio determinate cose che poi invece mi hanno fatto pensare che questa è una nuova tecnica di lavoro perché abbiamo all'interno qualcosa di nuovo c'è del teatro c'è il documentario c'è anche il movie il cinema ed ecco che anche questo l'ho presentato quindi finalmente arriva O Cristo Trovato quindi questo prodotto che oggi diventa un bel lavoro che parla proprio del ritrovamento del Cristo Nero Signore della Città da parte dei figli amari nel 1618 lo portiamo finalmente in visione il 14 di ottobre lo portiamo in visione con la fondazione Federico II che sono stati i promotori di questo nuovo lavoro mentre invece il 16 lo presentiamo qui a Caltanissetta al Teatro Rosso di San Secondo Palazzo Moncada il 16 di ottobre alle ore 19 chiaramente questo ci tengo assolutamente a dirlo è un omaggio a tutta la città quindi ingresso gratuito per tutti io già sono pronto a presentarlo in tutti i festival nazionali e internazionali e questa è già una macchina organizzativa che si è già mossa e sta facendo questo lavoro per questo progetto poi tramite la fondazione Federico II fra l'altro avremo questa prima sceneranno anche degli spagnoli ci sarà la Polonia ci saranno tante cose all'interno e all'interno ma il prodotto è in sinergia con la settimana Santa di Caltanissetta quindi sarà un grosso lavoro che loro hanno organizzato insieme a me e che sicuramente vedremo e infatti all'interno di questo lavoro c'è anche la congregazione della settimana Santa compreso Gianni Taibi che ne faceva diciamo parte integrante di questo progetto e che poi si vedranno nello schermo in una fase molto delicata molto bella che neanche loro sanno perché il montaggio è un po' strano ma fra l'altro le regie ogni regista ha la sua visione io ho avuto questa e secondo me è molto vincente un progetto cinematografico che ha visto la partecipazione di tanti attori e molti nisseni i grandi nomi Gaetano Aronica che fa le funzioni del prete in questo caso Pierluigi D'Angitano Jacopo Cavallaro e Rosario Vizzini e anche il teatro della parola di Caltanissetta a Tepa con Rigi che ha fatto un bellissimo testo teatrale che è all'interno di questo prodotto e poi ci sono tante comparse e tantissime figurazioni ci abbiamo anche Salvatore Pavone c'è Salvatore Alfano fra l'altro che è un nisseno doc poi i quattro figli amari vengono interpretati proprio da Pierluigi D'Angitano Salvatore Alfano Salvatore Pavone e Jacopo Cavallare bene benedicco oh Oh Signore Benedetto, che hai chiesto che ci hai fesso? Ma tu ne eras? Come l'ho detto? Settimana Santa, Caltanissetta rappresentata alla giornata della Rete Europea, il servizio. L'abito del capitano con la feloca e lo spadino, l'abito dello scudiero e dell'alfiere maggiore, lo scudo e l'alabarda della Real Maestranza e poi le bandiere, compresa quella storica, elementi che fanno parte della tradizione della città esposti all'interno del Museo Diocesano Nisseno. Anche Caltanissetta ha partecipato infatti alla giornata della Rete Europea per le celebrazioni della Settimana Santa con la mostra della Real Maestranza. Queste sono le prime giornate europee della Settimana Santa della Pasqua, l'1 e 2 di ottobre. Le 18 Settimane Santa che fanno parte della Rete Europea hanno celebrato e stanno celebrando questa iniziativa attraverso una serie di eventi. Noi speriamo che da qui ai primi dell'anno prossimo Bruxelles possa riconoscere come cammini di passione tutta la nostra Rete e quindi fare un passo più avanti. E possiamo anche dire che il percorso di Rete può essere supportato anche dall'entrata, se Dio vuole, con l'inaugurazione del nostro museo della Settimana Santa che ancora non è stato inaugurato. Noi siamo entrati a far parte di questa Rete nel 2018 in Portogallo, a Braga, attraverso la fondazione Federico II di Palermo e per essa la direttore generale, la dottoressa Patrizia Monterosso, che ci ha fortemente voluto e ha apprezzato la nostra Settimana Santa sin dal primo minuto. Questo dobbiamo dirlo che è stato veramente importante, così come è stata importante anche la partecipazione a questa Rete con una adesione voluta fortemente anche dall'onorevole Giancarlo Cancelleri, che allora era vicepresidente dell'Ars e della fondazione Federico II, che ci ha voluto accompagnare proprio per far sì che noi potessimo entrare. Il percorso della Rete europea non è tanto solo promuovere le processioni, ma promuovere un turismo religioso importante che guardi all'artigianato, ai docci conventuali e pasquali, quindi una serie di eventi anche collaterali tutto l'anno, non solo durante la Quarese, ma tutto l'anno. La mostra ha visto il coinvolgimento dunque del Museo Dio Cesano, guidato dal direttore Giuseppe Di Vita, della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta, dell'intera associazione Real Mestranza, ed in particolare del vicepresidente dell'associazione Aian, associazione intercategoriale Artigiani Nisseni, capitani della Real Mestranza e capitano emerito anno 2012, Giochino Ricotta, e del presidente della categoria Fabri, Salvatore Di Mauro, e della fondazione Federico II di Palermo. La Real Mestranza dunque così racconta la sfilata del mercoledì santo e più di 400 anni di storia. Sono 471 anni, è la più antica associazione, la più antica, oltre alla più antica, noi siamo la più antica di Caltanissetta, ma noi nel mondo siamo esclusive, siamo noi artigiani, che manteniamo quello che è stato creato, degli artigiani del 1551 che hanno di fai solo i muri della città di Caltanissetta. Questo noi lo manteniamo con orgoglio e andremo sempre avanti e manderemo sempre questa storia con grande gioia, e con grande lavoro e passione anche dietro le quinte. Escursione sulla via dei Minatori, nell'ambito degli itinerari della legalità. Si partirà alle ore 9 da Caltanissetta per arrivare poi alla miniera di Zolfo, tra via Talarita. Comincia così il programma dell'escursione via dei Minatori, museo della miniera tra via Talarita, l'appuntamento di sabato 8 ottobre, uno degli eventi, il terzo per l'esattezza del progetto itinerari di legalità dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, UEPE di Caltanissetta ed Enna, in collaborazione con l'Associazione Culturale di Promozione Turistica, Inner Sicili. L'escursione che si svolgerà nel territorio provinciale di Caltanissetta tra Sommatini e Riesi viene organizzata inoltre con il patrocinio e la collaborazione del Parco archeologico di Gela. Itinerari di legalità ha come obiettivo quello di ricreare legami e favorire la vita comunitaria attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità, si legge nel comunicato, per gli utenti in carico con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell'Ennese e del Nisseno. L'escursione dunque aperta a tutti, previa prenotazione però, infatti potrà accogliere fino ad un massimo di 25 persone, si prevede una durata di circa 4-5 ore, con la possibilità di visitare il Museo della Miniera, dove è presente la centrale elettrica, attrezzature e documentazioni fotografiche storiche del lavoro in miniera. E poi, grazie anche alla guida ambientale ed escursionistica Irene Bonanno, nonché presidente dell'Associazione Inner Sicili, si potrà ammirare e scoprire il paesaggio, lungo i due chilometri circa di sentiero, fino alla Petra Perciate e alle sponde del fiume Mera Meridionale, per poi tornare indietro ripercorrendo lo stesso sentiero. All'auditorium del liceo scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, si è tenuto un convegno finalizzato alla diffusione della cultura della legalità rivolto agli studenti delle classi della scuola secondaria di secondo grado, curato dai promotori del No Violent Safe Party Fluo Party 7.0. La manifestazione, che nasce nel 2014 con l'obiettivo di sensibilizzare il giovane al principio della non violenza, è dedicata alla persona di Aldonaro, giovane sancataldese ucciso all'interno di una discoteca di Palermo. Per la Polizia di Stato, quale relatore, è intervenuto il medico superiore Salvatore Di Benedetto, dirigente dell'Ufficio Sanitario della Questura di Caltanissetta. Tra i relatori, anche un funzionario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta è un ufficiale dell'Arma dei Carabinieli del Comando Provinciale. Antologia Reporter, Peppe Nasca, Una vita per il teatro, giovedì 6 alle 21 su TFN. Nuovo appuntamento con Antologia Reporter, giovedì sera alle ore 21 su TFN, dal titolo Peppe Nasca, Una vita per il teatro. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. La storia di Peppe Nasca, una storia che parte da lontano, dagli anni settanta, con i quindici. Una storia che si consolida con il piccolo stabile Nisseno. Una storia che finisce prematuramente in una notte come tante nel 1996. Il suo ricordo resta sempre vivo in quanti lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Di Peppe Nasca le nuove generazioni sanno poco o nulla, ma della sua passione, del suo entusiasmo, del suo carisma, sono piene le pagine più belle del teatro Nisseno. E non solo. Peppe Nasca, classe 1951, era ed è una pietra miliare della cultura e dello spettacolo di questa città. Spesso ingrata verso chi le ha saputo dare tanto, senza sé e senza ma. Peppe Nasca era l'anima del teatro a Caltanissetta. Era attore, era regista, era produttore. Innovativo, caparbio, vulcanico. Sapeva trascinare quanti lo circondavano. Sapeva pensare e vivere in grande per il suo teatro. Sapeva affrontare le sfide, tutte, sino in fondo. Peppe Nasca era ed è il padre del teatro di Caltanissetta. Visita di rilievo a Caltanissetta per la Nissa Rugby da Roma è arrivato Francesco Urbani, responsabile promozione e sviluppo della Federazione Italiana Rugby. In merito al Tomaselli, Urbani ha sottolineato, penso che la struttura sportiva, posizionata in una zona strategica dal punto di vista logistico, grazie al nuovo terreno in sintetico, potrebbe diventare un punto di riferimento per le attività giovanili regionali. Faccio l'imbocca al lupo per l'inizio di questa stagione che si presenta particolarmente impegnativa, sperando che si risolvano al più presto i problemi burocratici e si possa riprendere il lavoro quotidiano sul campo principale. Sull'argomento è intervenuto anche Gianni Saraceno, presidente della Federazione Rugby Sicilia, il quale ha affermato attendiamo con ansia la conclusione dei lavori di sistemazione del campo Tomaselli di Caltanissetta, poiché una volta pienamente aperto alla fruizione, l'impianto non soltanto darà un nuovo impulso alle numerose attività che la società di casa ha in cantiere, ma potrà rappresentare un hub per l'intero movimento regionale, soprattutto giovanile. Toto Arresta vince il 27esimo slalom città di Misilmeri. Il portacolori della scuderia Armano Corse conquista il settimo sigillo stagionale, al netto di tre acuti nelle tre manci in programma, imponendosi al traguardo sull'agrigentino Salvatore Catanzaro, anche lui su Gloria, e sul modicano Giuseppe Medica, ex equo sul Radical Protosport. Sebastiano Visconti ripone in bacheca la palma di miglior piloto locale ed il Memorial Luca Cerniglia. Negli altri gruppi affermazioni per il messinese Giamboi, speciale, per i palermitani Burgio e Cannatella, per il saccente Segreto, per il trapanese Valenti e per il nisseno russo nelle bicilindriche. Bene, per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi anche sul nostro paese avremo tanta stabilità con sole protagonista un po' ovunque. Da segnalare giusto qualche addensamento però sulle pianure del nord nella prima parte del giorno, soprattutto al nord-ovest, e anche qualche velatura che potrà transitare sull'arco alpino al nord-est, nonché un po' di addensamenti sulla Sicilia più orientale. Più nel dettaglio quindi della nostra previsione avremo una giornata nel complesso stabile, come dicevo soleggiata, attenzione però per qualche nuvola bassa che insisterà sulle pianure del nord-ovest, tra il Piemonte e la Lombardia, in via di diradamento, locali foschi e anche banchi di nebbia, anche nelle vallate interne del centro al primo mattino. Un po' di variabilità sulla Sicilia orientale, qui con occasionali piovaschi sull'entroterra durante il pomeriggio, ma per il resto tanta stabilità, sole protagonista e temperature sopra le medie del periodo, con punte anche di 26 gradi sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Scarantino, Via Paolo e Emiliani Giudici, Servizio notturno, Croce Verde, Viale della Regione.